ecco il classico mezzo che si accende una volta all'anno l'abbiamo spento e non è andava affatto Pietro va benissimo il pubblico è tutto rilassato sembra che non ci siano problemi l'impresa ha fatto una domanda tecnica ma come mai non va più l'impresa sta rischiando di perdere l'appalto per i problemi tecnici ha una botta attuale va fatto riposare di Pietro che me la tiene così